Che mi piacciono. Quando incontro un uomo e anche una donna che mi piacciono, lancio il mio sguardo ardente dentro i loro corpi. Voglio che i miei fervidi palpiti, che riconosco insani, facciano breccia nelle loro menti. Dicono che sono una ninfomane. Al mio tormento può dare requie solo il loro corpo. Ma per quanto tempo? Commento. Per tutto il tempo in cui il tuo corpo fisico dominerà i tuoi corpi più elevati.